Ciao amici di AC Milan Inside, ci siamo quasi all'avvio della nuova stagione del Milan che vedremo impegnato in una serie di amichevole estive già definite. La squadra rossonera del nuovo allenatore Paolo Fonseca rientrerà a Milanello il prossimo lunedì 8 luglio, dove si allenerà con la rosa dei ragazzi del Milan futuro di Daniele Bonera, da poco a Messi nel campionato di Serie C. Dal 20 luglio poi inizieranno una serie di amichevoli. Lo start ci sarà proprio a Vienna il 20 luglio alle ore 17.30 contro il Rapid. Successivamente dall'Europa il diavolo volerà in America per la tournée statunitense Sucher Champions Tour, un trittico di sfide dal sapore di Champions League. Il primo incontro infatti si terrà a New York contro il Manchester City il 28 luglio alle ore 20.45. Il secondo si terrà a Chicago alle ore 2.30 italiane del 1 agosto e vedrà il Milan impegnato contro i neocampioni d'Europa del Real Madrid, di mister Ancelotti, del nuovo acquisto Kylian Mbappé e soprattutto della nostra ex pulce Brian Diaz. La terza sfida di lusso si terrà invece a Baltimore contro il Barcellona alle ore 1.30 italiane del 7 agosto. Il tour di amichevoli precampionato si chiuderà tornando in Italia con il match casalingo a San Siro contro il Monza per il trofeo Berlusconi, fissato per il 13 agosto alle ore 21. E voi siete curiosi di conoscere questo nuovo Milan? Fatecelo sapere nei commenti. Un bacio!